Ciao a tutti e bentornati sul canale scusate se vedete i miei capelli che vanno tutti da questo verso ma ho il ventilatore praticamente acceso accanto perché si collassa dal caldo e con tutto che è sera ma qui forse la sera fa anche più caldo del giorno non lo so, non so più che temperature abbiamo raggiunto allora, oggi questo video è per quanto riguarda lo spacchettamento Avon di Campagna numero 10 come sempre vi farò vedere tutto ciò che hanno ordinato per i miei clienti e poi passerò a tutto ciò che ho acquistato io allora, cerco di andare abbastanza veloce sia perché magari può essere pesante adesso col caldo ascoltare tanto i video troppo lunghi e anche per me perché comunque vi ripeto fa caldissimo allora, una mia cliente ha acquistato questa borsa qui che l'ha pagata se non vado in là tuttora le 19,90 spero che si riesca a vedere è abbastanza capiente, ha una zip dietro e poi la trama questa qui davanti è tutta traforata scusate se non la apro ma come potete immaginare non essendo il mio prodotto non vorrei sciuparla comunque ha il manico abbastanza lungo perché si può mettere anche appesa alla spalla quindi non solo portate al braccio altro prodotto, allora qui c'è la bolla altro prodotto sempre inerente a quanto riguarda borse e borsette è questa borsetta qui, ve la mostro questa piano piano ce la faccio ad aprirla, ve la faccio vedere senza sciuparla ed è questa borsettina qui sempre tracolla perché ha questa parte qui che praticamente va poi appesa a tracolla e ha la taschina interna con il divisorio anche per il cellulare e qui c'è tutta la catena appunto allora la mia cliente aveva ordinato sia questa blu ma quella nera ma quella nera non me l'hanno mandata quindi sicuramente me la spediranno nella prossima campagna poi per quanto riguarda sempre le pochettine e poi terminiamo con questo genere di articolo una mia cliente ha ordinato questa pochette e l'ho ordinata anch'io quindi vi faccio vedere la mia questa pochettina qui appartiene a praticamente i prodotti quelli della solidarietà diciamo così adesso vi dico anche il termine esatto allora appartengono al nastrino della solidarietà che è quella fascia di prodotti che l'Avon distribuisce per un valore effettivamente importante cioè acquistando uno dei prodotti appunto del nastrino si contribuisce diciamo una parte del costo dei prodotti va devoluto alla lega italiana contro per la lotta contro il tumore al seno della donna sono anni che l'Avon affronta questa battaglia quindi sinceramente oltre ad averlo acquistato la mia cliente l'ho acquistata anch'io e anche perché è veramente graziosissima mi piace molto è una classica pochette per mettere il trucco io per esempio l'ho portata questa mattina al mare ci ho messo il cellulare, le cuffiette, qualche soldo e quindi comunque era comodissima appunto da mettere in borsetta o portarlo anche al mare e quindi l'ho acquistata sia io che la mia cliente quindi già un prodotto di quelli che io ho acquistato allora poi rimanendo comunque in tema di accessori però non riguarda anche più le borse vi faccio vedere subito cosa mi hanno ordinato allora vado spedita allora due clienti hanno aderito alla promozione quella che si acquistavi praticamente 15 euro di prodotti da catalogo io cerco di vedermi perché sono un po' storta scusate 15 euro di prodotti da catalogo potevi avere l'orologio a soli ve lo dico subito 10,95 parliamo dell'orologio Linda allora sono due è inutile che discarto vi faccio vedere il mio praticamente è così come questo qui mio che io ho preso in anteprima nella scorsa campagna è in questo verde acqua proprio molto chiaro ha il quadrante sempre verde con diciamo tutto intorno dorato quindi con le lancette anche dorate quindi è verde e oro molto molto bello questa è la prima sera praticamente che lo indosso anche se sono vestita con toni del marroncino e giallo però sinceramente chissene alla fine va bene tutto cioè anche perché sono colori molto estivi molto freschi e mi piaceva veramente tanto quindi i miei clienti due di loro hanno soffruito di questa promozione avrebbe potuto soffruirne anche uno o due altre persone però non l'hanno voluto fare siccome io già ce l'avevo non ho voluto prendere un doppione per me perché già avendolo era inutile poi un'altra mia cliente ha acquistato l'anellino quello con l'iniziale è sempre simile a quello che ho mostrato nell'altra campagna che era quello che una cliente aspettava da settimane praticamente da non so quante campagne però per fortuna questa volta me l'hanno mandato più velocemente ed è questo qui col cuoricino con l'iniziale E sinceramente mi piace molto perché l'iniziale E è appunto l'iniziale del mio nome quindi ci sto facendo un pensierino anch'io per prenderlo quindi non so può darsi pure che sarà un mio prossimo acquisto comunque questi anellini stanno riscuotendo veramente molto successo perché sono molto semplici non sono nulla di pretenzioso e quindi vanno benissimo il pack dello scatolino è sempre il solito nero con la custodia questa di cartone dove c'è la scritta Avon allora l'ultimo prodotto riguardanti sempre gli accessori è questa cover questa è una cover per il cellulare per praticamente compatibile con l'S6 l'iPhone 6 o 6S ecco S6 no perché è Galaxy non riesco a sfilarlo quindi non mi dite nulla scusatemi comunque potete notare praticamente che è la cover trasparente però poi tutta tempestata di brillantini di glitterini spero che qualcosa si riesca a vedere allora adesso partiamo direttamente con i prodotti che le clienti hanno acquistato con i capelli che mi vengono anche in bocca quindi facciamo così mi sbrigo meglio prendo il cartone sulle mie gambe allora c'erano le offerte per quanto riguarda i deodoranti a sera nelle profumazioni quelle non un giuti quelle là praticamente sport sono proprio le profumazioni quelle inerenti ai profumi quindi direttamente come i profumi e erano in offerta a coppia quindi le mie clienti hanno soffruito appunto di questa promozione di questa offerta vi volevo far vedere anche quanto costavano se riesco allora praticamente venivano 1,95 euro l'uno quindi 3,90 euro entrambi ed è un prezzo ottimo effettivamente quindi mi hanno ordinato nella fragranza pur blanca cheriche per save questa è sempre pur blanca per save per save per save e l'ultima è incandescence quindi comunque a coppia di questi deodoranti altro prodotto che mi ha ordinato una cliente è praticamente il deodorante spray quindi lo spray rinfrescante per i piedi con profumo di zucchero e lime no no con zucchero e lime e profumo di mojito ecco per essere preciso è un prodotto veramente eccezionale soprattutto per questo periodo così caldo perché spruzzato così sulle nostre gambe anche portarlo in borsetta a volte quando si cammina per strada ci si ferma quindi magari dare uno spruzzo nel momento che ci si siede un tavolino per prendere un gelato in qualsiasi momento serve appunto per rinfrescare le nostre gambe e i nostri piedi quindi eccezionale davvero da utilizzare proprio in questo periodo molto caldo altro prodotto che era in offerta è la fragranza e il profumo soft mask che io vi ho mostrato anche nello scorso spacchettamento è sempre la classica bottiglia solo un po' rinnovata per quanto riguarda vi faccio vedere vediamo se lo riesco a aprire senza danneggiarlo perché è difficile ok faccio vedere sempre la forma della bottiglia è rimasta diciamo identica è cambiato appunto il coperchio che anziché essere rosa adesso è bianco ma hanno modificato appunto il disegno qui hanno messo questa etichetta dove ci sono disegnati questi petali di fiori praticamente e sinceramente mi piace molto questa nuova veste di questo profumo l'hanno impreziosito in un certo senso e inerente a questa offerta praticamente acquistando un profumo a 11,50 euro con soli un euro in più si poteva ricevere il talco profumato sempre della fragranza soft mask la cliente non ha voluto soffrire di questa promozione sinceramente con un euro in più l'ho acquistato io quindi questo è un altro prodotto dei miei acquisti e sinceramente con un euro avere il talco profumato di 40 grammi sempre 24 mesi dalla sua apertura quindi è eccezionale anche perché i talchi profumati sia per quanto riguarda il caldo quindi magari aiutano anche una volta dopo la doccia per asciugare un attimino la pelle e anche l'inverno dopo il bagno sono fantastici e quindi ho soffruito io di questa appunto promozione altro prodotto che mi è stato ordinato è quest'acqua profumata all'orchidea e muore devo dire che le acque profumate stanno andando alla grandissima sicuramente sotto il mio consiglio vi dico la verità perché non dico che sto spingendo perché a me non piace essere insistente però siccome sto utilizzando diverse acque profumate le mie clienti si stanno fidando abbastanza perché effettivamente anziché il profumo mettere un'acqua profumata è molto più veloce è molto più è anche più rinfrescante effettivamente e poi sappiamo benissimo che anche di mattina possiamo spruzzarle e uscire senza incorrere nel rischio di macchiarci la pelle così come potrebbe accadere con un profumo e appunto questa fragranza è orchidea e mora e vi posso garantire che secondo me è la fragranza più bella è fantastica la stramo e quindi sarà un prossimo acquisto anche questo mio allora allora altro questo va bene un altro roll on di quelli di prima altro prodotto che mi hanno ordinato è questa maschera per i capelli praticamente dell'Advanced Technique ed è Absolute Perfection 10 benefici quindi ci sono diversi a 10 benefici questa maschera quindi tratta diversi punti per quanto riguarda la cura dei nostri capelli poi sinceramente è un prodotto eccellente poi i nostri shampoo vi devo dire che io li adoro e sinceramente mi piacciono molto poi quelli molto specifici quindi quelli proprio per quanto riguarda i trattamenti sono davvero eccellenti allora adesso possiamo ah no no l'ultima cosa sempre della Advanced Technique è la Supreme Oil quindi praticamente è l'olio con 5 nutrimenti quindi con il complesso di 5 nutrimenti e questo qui adesso vado a leggere nello specifico infatti il trattamento effetto luce per tutti i tipi di capelli ed ha appunto 5 ingredienti quindi 5 nutrimenti per creare questo complesso si può usare benissimo dopo lo shampoo e doppio imbalzamo si lascia sui capelli imposa per un minuto e poi viene risciacquato quindi comunque è un prodotto da risciacquo allora detto ciò quindi da tutti i prodotti beauty dei prodotti per quanto riguarda gli accessori tutto possiamo accantonare passiamo direttamente ai prodotti make up che non sono tantissimi però sono un po' allora parto nel farvi vedere il fondotinta che una cliente mi ha ordinato del fondotinta quello compatto quello in crema che ha poi la finitura in polvere secondo me è uno dei prodotti eccezionali veramente per quanto riguarda il make up perché è impalpabile sul viso anche in estate si può utilizzare tranquillamente senza appunto creare quella pesantezza e sentirsi quell'effetto cerone sul viso la mia cliente l'ha acquistato in questo color vi dico subito che colore è è pure beige lei in genere prende un colore è più chiaro però appunto siccome adesso è più abbronzata ho voluto utilizzare una tonalità più scura come sempre al mega specchietto e come sempre c'è anche la spugnetta per l'applicazione il pack rimane sempre quello nero classico elegantissimo e quindi niente sempre come al solito un prodotto davvero davvero eccezionale io non so che tipo di inquadratura ci sia se sono di lato se sono dritta non lo so oggi non sto non sto connettendo non sono molto inquadrata ecco diciamo proprio questo termine che mi sa che è molto azzeccato allora altro prodotto che mi è stato ordinato è questo gel per le unghie quindi è un gel trattante rinforzante ed è uno dei prodotti anche questi secondo me eccellenti è uno dei prodotti migliori effettivamente perché davvero è un prodotto che aiuta e rinforza le nostre unghie infatti io lo utilizzo anche nel mio lavoro per le clienti che hanno delle unghie un po' più sfaldate quindi un po' più deboli poi 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 mi hanno ordinato come acquisto da campagna precedente due di questi correttori nella tonalità medium che erano quelli che erano in offerta nella scorsa campagna appunto a 2,95 euro quindi diciamo che la cliente ha voluto soffrire della scorsa offerta effettivamente ha fatto benissimo poi 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 mi hanno ordinato una matita per le labbra la famosissima Depp Plum ormai è una delle matite che io vendo più di tutte ed è in questo color non so se si riesce a vedere borbogna ecco diciamo così melanzana non so come definirlo non ve la swatcho capirete benissimo il motivo perché sinceramente non è il caso non essendo un mio prodotto non mi permetterai mai e poi 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 mi hanno ordinato 4 rossetti anzi no mi hanno ordinato un correttore nella tonalità light della collezione color trend e quindi è un correttore molto leggero non so se si riesce a vedere dalla parte qui aperta comunque quello light è più chiaro e poi mi hanno ordinato 3 rossetti 2 della linea Avon ultra color sì e l'altro invece è sempre della linea color trend quindi della linea giovane per quanto riguarda la color trend abbiamo nel color ametista quindi è proprio un fucsia proprio un ametista color fucsia quasi quasi richiamo un attimino il pack però no perché è molto più acceso e poi mi hanno ordinato sempre questi altri due rossetti una nella tonalità ah no entrambe nella tonalità carnation quindi carnation color carne dovrebbe essere ecco non so se si riesce a vedere qui vediamo un attimino comunque appunto è un nude color carne allora per quanto riguarda i prodotti delle clienti l'ordine diciamo che termina qui adesso velocissimamente vi mostro tutto ciò che ho acquistato io con la bolla alle mani perché essendo un set di prodotti altrimenti non ricordo come è composto appunto il kit oltre ai prodotti diciamo sciolti ecco i prodotti singoli allora questi ok perfetto questo possiamo metterlo tranquillamente qui allora cerco di sistemarmi un attimino scusate sempre il fatto capelli al vento allora che dirvi passo velocemente a farvi vedere anche il materiale cartaceo mi hanno mandato questo volantino che ancora non l'ho letto molto bene comunque è per quanto riguarda la campagna poi che entrerà in corso perché ho spedito un po' prima quindi ancora siamo in campagna 10 però visto le vacanze che devo partire ho voluto anticipare l'ordine e farlo arrivare prima per poter consegnare in tempo alle clienti quindi questo sarà un volantino di campagna 11 ed è inerente appunto a noi presentatrici ed è per quanto riguarda una super offerta su un prodotto preferito da scegliere online quindi ancora non sono andata a guardare bene poi mi hanno mandato questi sono 10 se non vale errato queste brujure che sono un supplemento di campagna 11 con tutte le offerte quindi con degli sconti fino al 70% e poi come sempre mi hanno mandato l'avon tutto per te di campagna 11 poi per quanto riguarda qui non so che cosa è successo che si è rovinato boh e poi vabbè mi hanno mandato anche la scorsa campagna il supplemento di campagna però quello l'hanno mandato prima e niente quindi questo è l'avon tutto per te guida la campagna 11 con i prodotti in anteprima della campagna 13 ecco velocissimamente vi ho fatto vedere tutto il cartaceo per quanto riguarda i miei acquisti vi ripeto ho acquistato a 1 euro questo talco soffrendo della promozione del profumo che la cliente non ha voluto appunto accedere e poi la pochettina questa del nastrino della solidarietà a 4,95 euro sinceramente mi piace tanto il colore è fantastico quindi che dirvelo oltre ad avere l'utile facciamo anche il dilettevole l'utile perché una parte del contributo di questa pochetta andrà appunto alla liga contro i tumori al seno delle donne e poi vabbè è anche bello da vedere allora prodotti che ho acquistato io vi faccio vedere sono questi questo è il fondotinta minerale nella tonalità ivory molto chiara però sicuramente la utilizzerò in inverno se non la utilizzerò vedrò se venderla o metterla in qualche give non so e praticamente appunto è la cipria è il fondotinta minerale questo l'ho avuto con un contributo di un euro e 95 avendo appunto lavorato in campagna 10 e quindi c'era questo incentivo per noi presentatrici se lavorando in campagna 10 si poteva soffrire di questo fondotinta poi altro altro prodotto ve lo dico subito perché non ricordo appunto come tutto associato e niente 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 c'è il set allora il set ho soffruito di un set di prodotti se non vado errato intorno alle 20 euro e quindi questo set di prodotti era formato da crema mani alla glicerina che è questa qui della Bonker tutta la linea di questi prodotti che sia la glicerina che sia l'avena che sia le varie profumazioni vi posso garantire che è un prodotto eccellente alla glicerina senza altro sarà ancora più utile per quanto riguarda il freddo quindi quando arriverà l'inverno poi queste creme mani sono fantastiche perché non lasciano la pelle unta quindi puoi tranquillamente subito metterti all'opera e utilizzare e prendere qualcosa quindi non ti lascia le mani unte quindi sono anche utili davvero in estate allora questo è il primo prodotto poi come secondo prodotto c'è il balsamo della Naturals ed è il balsamo alla menta questo qui verbena e menta allora verbena e menta praticamente il balsamo da 250 ml e niente vi dico subito allora 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 balsamo e verbena e menta non mi dice nient'altro comunque questo se non vado errato perché ho preso anche lo shampoo qualche qualche campagna fa è appunto per quanto riguarda i capelli grassi quindi questo è un balsamo appunto per i capelli grassi quindi non lo va a pesantire e non li va a ingrassare ancora di più altro prodotto sempre del pacco è la è il profumo sun allora ve lo leggo subito perché sulla bolla poi è tutto appuntato è summer white sun 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 quindi è de toilette vaporizer quindi è il profumo questo io l'avevo sentito e mi ero innamorata avevo comprato i campioncini perché l'aveva acquistato tempo fa una mia cliente ed effettivamente è un profumo molto bello quella bottiglia è davvero graziosa è il profumo che ve lo dico a fare è veramente bellissimo poi sono quei profumi classici dolci che a me piacciono perché a me piacciono i profumi dolci non mi piacciono né quelli aggrumati né quelli fruttati a me piacciono più i cipriati un po' i fiorati però non che devono sapere da cimitero quindi comunque profumi dolci allora altro prodotto è il bagnoschium al geranio da 500 ml che questo va via come il pane perché l'estate a farsi 5000 doccia al giorno per 5 persone vi immagino quanti prodotti si consumano infatti penso che dopo girerò il video dei prodotti terminati del periodo quindi comunque è uno è un must have alla fine è uno dei prodotti più utilizzati più conosciuti di Avon infatti ci sono persone che acquistano solo e soltanto il bubble bath infatti Avon magari dicono ah per il bagnoschium viene conosciuto più per quello poi andando velocemente ne hanno sempre questo pacco era c'era anche questo lozione corpo a strawberry e guava quindi praticamente fragola e guava lozione corpo alla fragola e la guava si chiama un frutto tropicale quindi davvero davvero ottimo perché lozioni corpo ne beviamo anziché metterli sul corpo non li beviamo meravigliosa poi fragola no? e allora 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 poi c'è anche un prodotto di make up e parlo del coll eyeliner quindi eyeliner coll nella tonalità nera quindi black true black ve lo mostro subito e questa matita temperabile morbida quindi questa può essere utilizzata sia da eyeliner che da matita interna per la rima inferiore per la rima interna dell'occhio e poi c'è anche il suo sfumino che serve appunto per quando andiamo a fare il nostro tratto di eyeliner per appunto sfumare allora 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 poi 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 c'è il gel revitalizzante piedi della footworks nella nuova praticamente nel nuovo packaging perché è sempre lo stesso però è cambiato il pack e con menta olio di menta quindi molto fresca sinceramente per il mio lavoro voi sapete benissimo che io l'utilizzo tantissimo poi essendo appunto alla mente in questo periodo le cliente hanno soltanto beneficio una volta messa si fa il massaggio al piede con un prodotto appunto fresco davvero ottimo poi 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 c'è lo struccante extra lasting quindi è il make up remover ed è quello bifasico praticamente c'è quello acqua e olio che viene miscelato e quindi questo serve anche per i prodotti long lasting quindi allunga tenuto waterproof e quindi è un è uno struccante davvero eccezionale l'adoro mi piace molto poi 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 c'era compreso c'è un sacco di prodotti come potete vedere la fragranza roll quella stilo della far away questa sarà felicissima miriana di questa cosa ancora non l'avviso per fortuna è praticamente questo quindi tranquillamente si può portare in borsetta e averlo sempre a portata di mano fare away perché ve lo dico a fare vedete c'è la sferetta perché è a rollo quindi davvero un prodotto che io questo a rollo non ce l'avevo quindi sinceramente sono veramente contenta di che era compreso in questo set effettivamente poi c'è la crema per il viso royal jelly face cream quindi praticamente è la crema nutriente al viso con pappa reale che appartiene sempre alla linea voncare questa è solo crema viso poi ci sono i cremoni che sono viso mani e corpo quindi possono essere utilizzati in maniera diciamo abbastanza generale mentre questa è proprio specifica per il viso quindi abbastanza più concentrata e poi esclusivamente viso magari è da 100 ml sempre si trova sul catalogo comunque a un prezzo bassissimo quindi accessibile per tutti io questa la consiglio molto alle ragazze quindi che magari hanno una pelle giovane vogliono idratare vogliono mantenere la loro pelle bella fresca o anche tutte quelle signore che magari non utilizzano creme importanti ma che comunque vogliono avere una crema per il viso morbida e non vogliono spendere tanto quindi è un prodotto veramente eccezionale poi credo che l'ultima cosa credo che sì sì ho detto tutto ah poi praticamente c'era un'altra promozione legata sempre per quanto riguarda il profumo soft mask allora è arrivato un messaggio per noi dimostratrici se nella campagna numero 10 una cliente avesse acquistato appunto il profumo soft mask aggiungendo il codice si poteva ricevere gratuitamente anche l'altro soft mask quello soft quello silky quindi che è quello io silky non riesco a capire forse il cotone non riesco a scoprire il colore della femminilità irreversibile di questa fraganza sensuale orientale legnosa quindi adesso io le note veramente di testa non le conosco però sembra un po' più vanigliato rispetto al soft mask che è molto appunto di muschio molto più dolciasto e quindi sinceramente avendo avendolo gratis perché non lo so fruire di questa promozione poi l'estate si sa per invogliare un attimino più a spedire gli ordini se le inventano di tutte e poi ho preso dei campioncini un set di campioncini appunto per premiare per omaggiare più che premiare per omaggiare i miei clienti sono cinque campioncini di profumo nella fragranza absolute intense spero di averlo detto bene e poi avancerice the moment ok credo anche questi di averlo così piazzato lì detto in questo modo poi praticamente c'è il campioncino di nuovo prodotto che uscirà prossimamente ed è miracle glue che praticamente sono delle goccine utili anche per chi ha la pelle grassa quindi non va a ingrassare ed è sinceramente un siero potenziato è un olio per il viso ed è va a potenziare tantissimo anche le nostre prime e io credo che questo prodotto io lo devo prendere anche prima non l'ho acquistato perché ho voluto acquistare il set perché si poteva prendere solo in campagna 10 questo set mentre comunque l'olietto lo posso ordinare nella campagna 11 io penso che questo io posso anche utilizzarlo sui avete presente le cialde da contouring quelle in crema quindi per rendere più fluido anche il fondotinta penso penso devo studiarla devo valutarla bene questa cosa e poi altri due campioncini che sono il daily shine e il 360 no nourisent che praticamente sono l'olio all'argan quello del marocco e poi il multi shine technology che sono le goccine quelle che io utilizzo infatti questo fantastico quelle del marocco vi devo dire la verità non le ho ancora utilizzate con tutto che ne vedo tantissimi ancora non le ho utilizzate